Attenzione 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 potrebbe essere il secondo bacio di fila ma non ci voglio credere prima nessun nemico adesso due insieme doppio bacio per noi 3 2 1 andiamo Ragazzi benvenuti in questo primissimo video insieme alla mia ragazza avete capito bene siamo qua in compagnia di Giorgia la mia ragazza che oggi ci accompagnerà in un video molto particolare Infatti per la prima volta andremo a fare questo video insieme tra l'altro sul canale e andremo a fare una challenge davvero assurda Infatti per ogni kill che farò dovremmo darci un bacio sarà una challenge estrema mi raccomando forza con i pollicioni in su e arriviamo almeno a 10.000 like Ovviamente adesso c'è il momento del quiz indovinate il nome di questa skin che state vedendo qui nello schermo in questo momento qua sotto nei commenti vediamo chi indovina Atterriamo verso un siepi d'agrifoglio perché l'obiettivo di questo video vi ricordo è fare tantissime kill perché vi ricordo che ogni kill sarà un bacio quindi mi impegnerò al massimo per ottenerne più possibile Inizio subito con il prendere il loot speriamo che ci diano le armi migliori allora devo dire la verità già abbiamo iniziato con due armi non male e dato che siamo all'interno della nave abbiamo anche un sacco di materiale a nostra disposizione Sento già un nemico quindi probabilmente riuscirò anche a fare una kill e ad ottenere così il primo bacio vedremo Tanto siamo aumentati di livello mamma mia se siamo troppo forti Perché la banana è in metà scheletro? Ehm che mese siamo? Ottobre E che cosa c'è ottobre? Che festività c'è? Halloween L'ho messa apposta perché siamo in tema Halloween e quindi dobbiamo iniziare un po' a imparare tutti quanti i nemici Adesso comunque credo che prendo una macchina e vado a cercare qualcuno perché qui vicino non sembra esserci nessuno ragazzi Allora cari nemici qua c'è una challenge in corso io voglio ottenere più baci possibili Io invece spero di no Ma come no? C'è questa? No sto scherzando Ah ok 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 era un piccolo prank adesso però qua dentro raga mi sa che c'è un nemico Fermi tutti perché mi sa che c'è un nemico qui davanti ai miei occhi Dov'è? Dov'è andato raga? Vi giuro che c'è un nemico qui Dove cavolo è andato? Avete visto che si è attiva della zona e il nemico dove cavolo è? Fermi tutti lo devo trovare e andare fuori subito eh raga ve lo dico Io questo lo faccio fuori perché voglio ottenere il primo bacio della partita Controlliamo qui sotto alle casette se c'è qualcuno No raga ma non c'è nessuno Ma com'è possibile? Ma dove è andato? No lo devo trovare eh lo devo trovare ve lo dico Intanto raccogliamo queste barattoli dato che ci siamo almeno possiamo completare anche qualche missione Adesso che la challenge è di uccidere nemici io giustamente non trovo nemici mi pare giusto il gioco grazie mille E ragazzi ricordatevi di usare il codice Lollopollo Proprio come dice il banner qui sotto mi raccomando fatelo tutti perché in questo momento mi serve come? Perché mi sa che dentro questa casa c'è un nemico quindi mi serve la potenza del vostro codice Lollopollo Inseritelo tutti ragazzi all'interno dello shop mi raccomando se volete supportarmi al massimo E vi ricordo anche di passare su Instagram che siamo quasi in 20.000 Manca davvero pochissimo Trovate tutti i link in descrizione E ovviamente oltre che il mio Instagram ci sarà l'Instagram della mia ragazza quindi passateci tutti Nemici nemici dove siete vi sto dando la caccia da tipo inizio partita ma non c'è ancora nessuno Questa cosa è incredibile di solito quando gioco una partita senza fare challenge mi escono nemici da destra da sinistra da sopra da sotto Adesso neanche uno questa cosa è assurda regà Ok almeno qua c'è anche un po' di slurp gratis me lo faccio subitissimo vado a prendere anche le munizioni Che ci serviranno per sparare nemici che però per adesso non ci sono quindi non so a chi sparerevo oggi Allora allora facciamo una previsione secondo te quante kill quante uccisioni riuscirò a fare in questa partita Dai dai dimmi un numero tra 1 e 10 Ti dico subito che c'è un nemico qua quindi vai vai il numero da 1 a 10 3 3 uccisioni ok 3 uccisioni non è male se solo fosse che il primo nemico è già qua e mi sta sparando Attenzione No 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 l'ho quasi ucciso eh L'ho quasi ucciso eh No 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 mi sparano in due No non ci credo ragazzi devo far fuori il primo nemico Quasi Quasissimo regà è quasi morto È morto il primo nemico prima uccisione per me Primo bacio di oggi Oh no Arriva un altro nemico fermi tutti Potrebbero essere due baci di fila questi Attenzione Attenzione ragazzi Attenzione 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 Potrebbe essere il secondo bacio di fila Ma non ci voglio credere Prima nessun nemico adesso due insieme Doppio bacio per noi 3 2 1 andiamo Due baci andati ragazzi in un solo colpo Mamma mia che fortuna che abbiamo avuto quest'oggi raga Veramente tu hai detto 3 kill secondo te facevamo Per adesso siamo già due in un solo minuto Tipo questa cosa è assurda ragazzi Assurda Sbagliavo quando dicevo 3 ne farei almeno 5 5? Ah ok mi piace la tua fiducia Però penso che non riuscirò a farne 5 purtroppo Nemici nemici laggiù Ma dove? Oh 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 Signori Quelli sono prete facili E te lo dico Qua ci scappano almeno altre 2-3 kill eh Vado 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 Gli buscio subito Vado all'attacco Speriamo di fare più kill possibili Sono anche fuori dalla tempesta Attenzione mi avvicino Stanno scendendo Proviamo a dargli fastidio Proviamo a dargli fastidio ragazzi Proviamo a dargli fastidio il più possibile Diamogli fastidio Ragazzi l'abbiamo buttato giù quasi L'abbiamo preso Non riesco ad ucciderlo Mi sa non riesco No non ci credo Non sono riuscito ad ucciderli raga Non ci voglio credere Proviamo a prendere la jump Che hanno preso loro Dai ci proviamo ragazzi Ci proviamo Quanto è? Eccola 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 Boom Si vola si vola si vola E speriamo di riuscire raga Dove sono andati? Eccolo No mi sta sparando No 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 raga Questa è una brutta situazione Ve lo dico Questa è una brutta situazione Molto brutta Eccolo No 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 Vai via Vai via vai via No 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 Non ci voglio credere Ho perso così Ma sono un pollo Glamoroso raga Siamo arrivati solamente undicesimi Però dai Due kill di fila Ce le siamo fatte E che fai Un'altra partita Non la proviamo? Eh dai proviamola Ma solo perché Sei tu e mi voglio riscattare Dopo questa morte Un po' bruttina Ragazzuoli Questa volta Andrò ad utilizzare Una tattica Leggermente diversa E qual è? Eh qual è qual è Qua vuoi sapere un po' Troppi segreti Vi butterò nella città In teoria Più piena di persone Così da fare più kill possibili Subito all'inizio Ovviamente so che non sarà così E probabilmente morirò dopo tre secondi Ma questi sono dettagli trascurabili Eccoci qua Nella città più abitata Eh mamma mia Guarda guarda quanta gente È già pieno È già pieno Devo solamente Prendere più armi possibili E iniziare ad attaccare Tutti quanti i nemici Tutti insieme li attacco Regà mi metto d'impegno Mi metto d'impegno Perché questo giro Ne voglio almeno quattro Non due di baci Dove sono le mie armi? Eccole qua Qua c'è una bella mitraglietta Magari un bel fucile assalto Non mi dispiacerebbe Apriamo questa cassa E via subito Alla ricerca di nemici Da far fuori Mi raccomando Forse con i pollicioni in su Ragazzi So che ne potete lasciare tantissimi Quindi mi raccomando Per questo super video speciale Io vi chiedo almeno Diecimila like Mi raccomando Attenzione subito Un nemico qua ragazzi Subito un nemico Qui sopra di noi Andiamo a pusharlo Dov'è? Eccolo 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 E' qua E' qua regà No ancora più su E' ancora più su Ce la possiamo fare E' qua Oh mio dio Sta esplodendo tutto E' super E' super Andiamo Andiamolo a prendere Regà Andiamo a prendere il nemico Che lo voglio far fuori Lo voglio fare in mille pezzi Lo voglio distruggere Dove cavolo è andato? Non c'è più Ma non ci credo No regà Veramente Dove è andato? Dentro questa porta? No Non c'è raga E' sparito Sparito un nemico dal nulla Oh eccolo No 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 E' lì dietro? No 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 Regà No 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 Rischio di morire tantissimo Ovviamente so che non sarà così E probabilmente morirò dopo tre secondi Ma questi sono dettagli Ma questi sono dettagli Trasporabili Penso di essere morto ragazzi E mi sa che questo video si concluderà con solamente due baci purtroppo Che dirvi regà questo video super speciale finisce qui Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa challenge Se vi è piaciuta E soprattutto vi ricordo di passare qui sotto in descrizione dai nostri social Inserire il codice lolopollo nella shop Iscrivervi al canale E per oggi è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video In una prossima live Grazie mille a tutti per la visione E un salutone